Allora, voglio farvi vedere quello che succede in questo momento in casa mia praticamente dal piano di sopra pare si sia rotto un tubo questo è successo diversi giorni fa queste sono le condizioni in questo momento del mio appartamento dicono che lo risolveranno tra qualche giorno e io ogni due ore, io, la mia tata dove sei? Tattoo! Ciao! Praticamente dobbiamo cambiare l'acqua che di continuo si riversa ed è tantissima e quindi tutta la notte noi da qualche giorno la stiamo passando in questo modo adesso prenderò un canotto, andrò a nuotare ma non è carina questa cosa quindi volevo ringraziare veramente le persone che mi hanno affittato l'appartamento e il tubo del piano di sopra che si è rotto Thank you! Grazie! 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 Grazie!